Il 4 marzo del 1391 veniva fondata a Ferrara l'Università che oggi, a distanza di oltre sei secoli, ha celebrato il suo 632esimo anno di vita con l'apertura del nuovo anno accademico. La cerimonia di inaugurazione che si è tenuta al Teatro Comunale di Ferrara Claudio Abbado ha voluto sottolineare nel nome di Niccolo Copernico, il più famoso dei suoi allievi, il ruolo dell'istituzione universitaria nel mondo e nel paese, a partire da Ferrara, come ha detto ai nostri microfoni la rettrice professoressa Laura Ramaciotti che ha espresso la sua gratitudine personale e quella dell'intero mondo accademico al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il messaggio di fiducia offerto con la sua presenza ai giovani all'Ateneo, luogo di crescita del sapere critico e di formazione della coscienza civile come è proprio delle università. Una cerimonia importante per una inaugurazione molto significativa. Sì, ci tenevamo tanto a dare un messaggio a tutta la nostra comunità, come ho richiamato più volte anche nel discorso, in primis ai nostri studenti, ma a tutti i colleghi, il personale docente, tecnico e amministrativo, ma anche alla città. E da qui l'idea e comunque la graditissima presenza del nostro Presidente della Repubblica che ha infuso, penso, in tutta la nostra comunità territoriale un messaggio di riflessione e di speranza. L'Università ha un ruolo centrale nella vita del Paese e anche nella vita della nostra provincia. Sì, l'Università è un luogo di cultura, di conoscenza, di sapere critico, come dicevamo prima, di formazione, di educazione. Sono tante le missioni al di là delle tre statutarie istituzionali di cui l'Università quotidianamente deve farsi carico e tenere alta la bandiera per far sì che appunto le nostre generazioni attuali e future crescano, si spera, con i più sani principi e valori. È stato molto forte il messaggio lanciato dalla rappresentante degli studenti. Lei che cosa risponde? Io credo che ci siano senz'altro delle difficoltà che gli studenti delle nostre generazioni stanno affrontando. Le abbiamo affrontate tutti, in momenti diversi della storia, più o meno complicati. Questo non significa che non si debba ascoltare e comunque cercare di reagire in maniera tale che possano essere accolte anche tante delle citazioni che ci vengono poste. Abbiamo sofferto un po' tutti e tutti quanti ci siamo rimboccati le maniche cercando di vedere anche il bicchiere un po' mezzo pieno, non solo quello mezzo vuoto.